Parliamo un attimo di Cina, perché quando si pensa all'innovazione in Cina o in Europa o in Italia riteniamo che la Cina sia il paradis della copia, ma quando abbiamo a che fare con la cultura dei maker succede qualcosa di diverso. E il prossimo oratore, adesso i maker in Cina possono progettare, commercializzare e produrre i loro prodotti, quindi fare in Cina non significa copiare, ma significa realizzare. Ciao, condivederò due tendenze oggi, innanzitutto abbiamo un prodotto più indipendente, come i film indipendenti, come la difficoltà è molto più bassa, tutti possono fare il suo prodotto. Visto che le difficoltà sono inferiori, il prodotto può essere realizzato da ciascuno. Abbiamo un nuovo modo di produrre, che è più aperto e più codipendente, tutti questi li conoscete, quelli delle stampanti. C'è una similità che è partita dal fatto di rendere degli strumenti più raggiungibili persone. Noi siamo i maker, pensiamo di essere i maker e loro, secondo me, sono coloro che realizzano i prodotti in base alla creatività. Penso che adesso non sia molto più facile, i maker stanno portando un ponte tra il design e l'ingegneria, facendo qualcosa di molto interessante. Non sono solo le start-up, ma stanno creando un ponte verso i consumatori. Consumatori possono comprare delle cose, ma possono trasformare le idee per creare qualcosa di interessante. e poi c'è la nostra start-up e fare del business. Abbiamo tecnologie più accessibili, è possibile diventare maker, programmatori, è possibile utilizzare le tecnologie open source. Sono come i geni che si possono ereditare. e i maker portano delle mutazioni, cioè abbiamo un'area di prodotti indipendenti. Perché è così importante? Perché anche il gioco sta cambiando. In 1984 la domanda era unificata, tutti portavano gli stessi abili e guidavano le stesse macchine. i processi erano centralizzati, la produzione è decentralizzata, i prodotti erano fatti nello stesso posto per anni anni. Poi adesso abbiamo prodotti più diversificati, la produzione è più decentralizzata, con processi più flessibili, e con la stessa fabbrica è possibile fare tante cose. Possiamo utilizzare componenti standardizzati che possono essere condivisi. e poi, nel prossimo passo avremo, nella prossima fase avremo un mondo personalizzato, proprio come al ristorante, è possibile ordinare quello che vogliamo. che vogliamo, e possiamo presentare delle idee, metterle iniziali, sembrarle, come avviene per la robotica. Inoltre, i componenti verranno condivise, se andate al ristorante, è possibile avere un menù con tanti ingredienti diversi, come è adesso la produzione. Se andiamo a vedere, come si può usare, come si può dividerli in 4 layer, prodotti di firmware, che è programma, che è una anima, e anche il skeleton, perché l'apparato è molto facile da fare, per proteggere il corpo, che può proteggere il corpo, che è una pelle, per vedere i vari strati della produzione. E gli sapato tipi ci permettono di farlo in maniera più velocemente, con degli standard aperti e standardizzati, come Arduino. È come la cucina, abbiamo tanti ingredienti sul tavolo, e possiamo utilizzare le nostre capacità per creare qualcosa di diverso. E' possibile poi velocizzare i processi, usando Arduino. E' possibile passare dal prototipo alla spedizione in 21 giorni. Possiamo anche invitare tante persone a lavorare insieme con le stesse componenti. e abbiamo tanti ingredienti, tutti uguali, tutti uguali, abbiamo bisogno invece di cose di diversificate e abbiamo qui una cenese di Pan, tra una grande differenza tra le sistematiche di prodotti aziende. E poi quando dei generi di Pan, abbiamo bisogno una più efficacia di Pan Allora come hai bisogno di capelli, abbiamo bisogno di una migliorizzazione di Pan abbiamo bisogno di casa diversificate, e abbiamo bisogno di una migliaia di modi, e invece di noi dovranno avere maggiore cresci Tecone. passando da un primo prototipo e produttendo tantissimi prodotti e questo è possibile appunto farlo grazie a questo nuovo modo di produrre è sempre interessante venire a Roma perché voi avete il migliore cibo del mondo e abbiamo troppi ingegneri, forse dovremmo lavorare più con l'Europa dovremmo mettere tutti i talenti nella stessa tazza e praticamente flussarli tutti insieme, grazie